ampiamente vi affligge cerchio medianico k attraverso marco a cura di vb guida psichica ancora una volta vi abbiamo parlato di quella realtà che così ampiamente vi affligge il dolore più vi sforzate di ignorarla più essa realtà vi frequenta più la temete più essa vi terrorizza beato è colui che avendo compreso tutto ciò ha superato il dolore ma quanto lontane vi appaiono queste mete quanta tristezza è in voi ogni qual volta esse vi vengono da noi suggerite e prospettate eppure noi vi diciamo amatevi amate e nell'amore e per l'amore conoscete voi stessi voi avete udito che vi fu detto quando analizzate l'essere vostro non vi siano mete da raggiungere ma io vi dico perseguite pure ciò con uno scopo esso sia l'amore questo vi condurrà a mano a mano a sempre meno giudicare e a sempre più comprendere quello che esperite possiate voi pervenire a quel donare che in se stesso trova vigore nutrimento e ragion d'essere affinché la realtà divina che tutto contiene e trascende si manifesti tangibilmente in voi grazie a tutti grazie a tutti